ok si è tornato sono tornato mi diceva ma ok adesso dovrei esserci stasera un grande ritorno si ah si fa quello stasera si in giovedì non sarà di niente queste fragole oggi la connessione è veramente ingestibile è la terza volta che caschio ho provato a togliere la live non credo più hype per la live di stasera che quello per infiniti ora addirittura ho dato una ginocchiata all'ipad cazzo se sono pronto per super seducer 2 non è un divano il cuscino grazie non ho visto ricchi era lunga il messaggio sono dovuto andare a leggere fino a qua ho ancora i polletti buoni ragazzi però scusatemi e perdonatemi c'è gabriel che continua a riprendere un sacco di persone dove dice non spammare mi fa strano che due messaggi sotto sia uno che ha ripetuto il messaggio per la seconda volta o terza adesso non mi ricordo quante volte cioè se non vi leggo cioè vi sto leggendo tutti ragazzi se non vi leggo vuol dire che non ha da dire a riguardo c'è bisogno di riscrivere sette volte ci sono delle regole comunque da seguire leggetele di sotto anche perché per poter scrivere in chat avete dovuto comunque accettarle quelle regole se avete accettato quelle regole quindi non vi lamentate se poi venite chiccati oddio non ho fasma giusto me lo so ricordato perché non si legge un cazzo grazie mille per i suoi otto mesi no non mi hai trovato ieri sera ma che peccato un sacco di gente poi alla fine lascia claim with lascia un certo bellissimo dai che stasera ti ritorna golfini come? ti ritorna golfini piazza giù allora danny per cortesia non capisco se tu sia un troll o cosa basta adesso basta per cortesia basta alla prossima veramente ti faccio bannare piazza giù si è grazie a piazza dead by daylight a me è ficca in realtà sono gli altri che non ci vogliono giocare che devo fare? a te piace dead by daylight? ma si ma a me piace anche venerdì 13 mi piacciono tutti e due cioè fondamentalmente sono la stessa roba beh cioè dead by daylight è un po' più è meno più il mostro è più scelta è una domanda trollona perché i video su youtube escono continuamente ma cosa c'entra Karim? ma anche secondo me è bello dead by daylight è molto buggato adesso non so se l'abbiamo sistemato migliorato ma ma è minchia si è giocatissimo adesso stanno sistemando dei patch in patch continuo ad aggiungere personaggi e mappe e non sistemare i bug grafici e glitch si i video di golfini erano solamente due perché pensate che all'epoca i video di golfini sono usciti semplicemente perché non avevo la minima idea di cosa fare sul canale e avevo queste come si chiama dieci ore se non sbaglio di demo da poter utilizzare per giocare a pga tour 2015 credo ma che giochi sono stati chiesti non si possono chiedere giochi non posso fisicamente giocare eh moro avevo il che babbaro allora se volete farmi un favore regalate 50 euro a moro così si può comprare il gioco anche regalando 50 euro a moro non so se li spenderà per quello eh si se no li li ripetiamo non si regalare il gioco il gioco non glielo si può regalare su steam però che non c'è nella lista amici eh si facciamo una colletta per moro dai 50 euro ma se ne doni due diventa 100 eh vabbè non farlo dai facciamo così durante la live dei termosifoni ogni volta che donate qualcosa dite che è per far comprare a moro il gioco di golf com'è che si chiama? mhm the golf club 2018 no corno tu vaffanculo dai fatta? ma stanno 50 persone che donano un euro alla fine bravo ti inculi corno frega niente che ci vuole? ma infatti però in ogni donazione dovete scrivere nella descrizione che questi soldi sono per per far comprare a moro il gioco di golf il gioco di golf corno guarda che vengo li e ti cago in testa sai che scomodità eh no ti farò distendere prima no no mi appoggio praticamente i piedi sulle sue spalle mi appoggio sono appollaiato e gli cago in testa appollaiato si mi puntello sul soffitto e gli fa ah 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 e tu cachi cos'è quella? perchè dovevi fare quel verso lì? eh perchè lui non vorrebbe e allora gli dice una cimmia ti pia sulle spalle che pesi ah no no si 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 plof eh eh messaggio per il ride off viene lungo viene lungo mi sporco io? no perchè? io sono seduto come se fossi seduto sul water eh ma scivola effettivamente scivola sui piedi scusa? eh si perché cade in testa ma poi scivola sulle spalle sulle spalle ci stanno i tuoi piedi ma basta fargliela in testa e basta si sta bene lo dobbiamo operare fra due settimane non sono mie queste lenzuola è casa mia non posso fare l'influenza sono lenzuola bossi credo di bossi? si chiamano bossi? effettivamente è verde sotto a me non mi guardi ricordare no non è niente si c'è un testicolo ritenuto da conto e lo dobbiamo togliere lenzuola padane guarda i bossi sono veramente bossi non stavo scherzando sono le mie preferite perchè sono morbide e leggere un po' di fresh ma è fresh eh? com'è fresh? ho i piedi fresh e ti copri fino alla... e così intanto il corpo scaldo va bene Jules oh adesso mi si vede molto più bello lenzuola lenzuola di ugo bossi è certo basta basta usare in ogni tessuto l'enor c'è stato un regalo di sample non ho visto non ho visto da michele996 a Giulia Carla grazie mille grazie mille a michele e tanti auguri a Giulia Carla ma a me non è uscito nulla ecco un po' sincerto adesso gentilissimo ecco l'uscita adesso Giulia Carla 7 frames ok adesso sembra essersi ripeto no aiuto aiuto ok no si no si no si niente senti ma andiamo giù no? e che palle e qua funziona male perchè c'è il ripetitore poveretto non ce la fa con l'upload un conto è il download ma il download sempre fatto la levita qua che ti devo dire ok ora va funziona o no funziona e lo so Giulia che ti devo dire se non ti muovi non si nota e infatti se vado da letto non ci innamoriamo più ma neanche così vi innamorate più perchè non lo vedete niente ragazzi dai recupereremo queste live in un'altra maniera non so cosa fare non funziona un cazzo neanche stamattina come ieri no ma giù scusa ma no non ha senso farla ripartire altre otto volte dai ci vediamo con te stasera salutatemi i termosifoni e soprattutto donategli per un bene superiore buona giornata ragazzi c'è un'altra resab un'altra resab sì paleobacucco grazie a paleobacucco prima di chiudere grazie a tutti